Nettua Stark non disponibile Riconoscimento facciale non disponibile Ciao Sì, vi vedo Vulla Peter Parker Mamma, 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 guarda, guarda Ok Ok Sì? Salve, io sono Peter Parker. Sai di essere in mezzo alla strada, vero? Sì, mi scusi, è che ho davvero bisogno di parlarle. So chi è diretta all'aeroporto, volevo solo... MJ Watson e Ned Leeds sono le due persone più intelligenti che io abbia mai conosciuto. Io sono la persona più stupida perché ho permesso loro di aiutarmi, ma altrimenti milioni di persone sarebbero morte, perciò la prego. Non lasci che l'MT sia stupido quanto me... L'MT è stupido? No, sto dicendo non lasci che l'MT sia stupido. Nel senso della versione ancora più stupida di me che non avrebbe permesso loro di aiutarmi. Non era un discorso preparato, vero Peter? In pratica quello che sto cercando di... Perché scappi? Che cosa... Oh, cavolo... Eh, signora, dovrebbe... dovrebbe scendere dalla macchina! Tutti e quanti via dal ponte! Lo sportello è bloccato, lo sportello! Ciao, Peter! Ciao! Noici, la conosco? Cosa hai fatto al mio apparecchio? Il suo apparecchio? Non so di cosa stia parlando, non so... Quale apparecchio? La potenza del sole nel palmo della mia mano... è sparita. Ascolti, signore, se la smettesse di devastare auto, potremmo lavorare insieme e l'aiuterò a trovare il suo apparecchio! Vuoi giocare con me? Prendila! Ok, siete al sicuro? Andate via! Pensi che la tua nuova tuta ti salverà? Avrei dovuto uccidere la tua fidanzatina quando potevo. Che cosa ha detto? Pare che ci sia una gara. Che cosa ha detto? Arrivo! Arrivo! Lo si preoccupi, signora! Arrivo! Prendila! Signora, stia calma, faccia un respiro profondo Sta bene? No! Non ci roppi, ho tutto sotto controllo Tutta compromessa Nanotecnologia Hai superato te stesso, Peter Ti ho sottovalutato Ma ora morirai Tu non sei Peter Parker Sono davvero confuso ora Che succede? Nuovo dispositivo rilevato Abbino nuovo dispositivo Non ascoltare lui, ascolta me Ascolta me No, non lui Signora, sta bene? Andiamo, puoi prendere ancora il suo volo Peter Sei un eroe No, beh, sono... No, sono... Parlerò con l'ufficio a missioni dei tuoi amici E parlerò anche di te No, ma signora, non si tratta di me Parlerò con loro Dei tuoi amici e di te Ok? Davvero? E se resterete fuori dai guai Forse avrete una probabilità Tieni, spostati Devo prendere quell'uomo Ehi, tu! Ti vedo, vieni qui! Non avresti dovuto farlo Incredibile Chi è lei? Ehi, ehi, ehi! Aspetta di provare a uccidermi Sono io che comando, capito? Ho il controllo di tutta questa situazione dei tentacoli Ok? Allora, chi è lei? Che succede?